Diederik Hartz è un fisico belga, medaglia Prigogin, la cui ricerca verte principalmente sui fondamenti delle teorie fisiche, oltre ad essere uno dei pionieri della cosiddetta quantum cognition. Tra i suoi interessi c'è anche quello della relatività, ed è proprio in un periodo della sua vita dove stava riflettendo sul significato profondo della teoria einsteiniana che fece uno strano sogno, che forse non era solo un sogno, dove la sua defunta prima moglie, Nathalie, gli apparve. Mi accolse con calore, ricorda Diederik, che mi condusse sulla pista da ballo al centro della sala. Le dissi che ero felice di vederla, lei sorrise e mi indicò un posto a uno dei tavoli. Mi chiese cosa avrei preso, aggiungendo che c'erano molti piatti gustosi. Poi, con voce seria, aggiunse che c'era un uomo che mi aspettava. «Questo signore sembra intenzionato a conoscerti», disse lei con la fronte aggrottata. «Mi ha chiesto più volte se fossi già arrivato». Poi sorrise di nuovo. «Andrò a dirgli che sei qui e vi porterò anche qualcosa da mangiare», e si allontanò in fretta. Diederik la vide scomparire tra la folla dall'altra parte della sala da ballo. Era seduto al tavolo e guardava le coppie che ballavano. Poco dopo, Nathalie tornò con ogni sorta di leccornia. Al suo fianco vide Albert Einstein, chiaramente riconoscibile per i capelli grigi e ruffati e il viso rugoso. «Questo è il signore che vuole conoscerti», disse mentre lo conduceva al tavolo. Albert lo salutò gentilmente e, mentre era ancora in preda allo stupore, iniziarono una conversazione che sarebbe durata fino a tarda notte. Ecco un frammento di quello stupefacente scambio. «Ero ancora abbagliato dalla visione che mi aveva rivelato e diversi pensieri mi attraversavano la mente, nuove domande e il desiderio di capire. Perché la relazione tra tempo e spazio è iperbolica», chiese Dietrich, che pensava che questo fosse uno degli aspetti più misteriosi dello spazio-tempo relativistico. Albert sorrise e Dietrich vide i suoi occhi brillare. «Ogni entità si evolve secondo il proprio ritmo di premurosa dedizione», rispose. «Ma se un'entità è costretta ad evolversi nel dominio di un'altra entità, mentre questa definisce il proprio ritmo naturale, allora sarà meno dedita e comprensibile, no?» e aggrottò le sopracciglia pensieroso. «Ascolta», continuò Albert, «ora stai riflettendo al tuo ritmo su ciò che sto cercando di spiegarti. Se vuoi che ti accompagni nei tuoi pensieri fino alla tua prossima domanda, devo muovermi più velocemente di te, capisci?» «Quello che chiami il ritmo di ogni entità è la velocità della luce», chiese Dietrich. «Esattamente», disse mentre beveva un sorso di birra. «Stai capendo e io ti sto seguendo nel tuo ragionamento». Rimise il bicchiere sul tavolo e usò la mano per sottolineare le sue parole. «Il ritmo naturale è la velocità della luce nel dominio del mondo materiale, ma in linea di principio potrebbe essere un'altra velocità. Ciò che è importante osservare è che io devo tenere il passo con te e stare con te e quindi impiegare meno tempo di te se misuriamo il tempo relativamente al tuo dominio». Dietrich si appoggiò in avanti sul tavolo per riflettere. Le persone al centro della sala da ballo fecero una pausa e iniziò un nuovo brano musicale. «Vedi, anche queste coppie di ballerini sono con noi anche se non sono al corrente di ciò su cui riflettiamo», disse ancora Albert. «Quindi devono muoversi ancora più velocemente di me. Se li consideriamo parte del tuo dominio di pensiero e se misuriamo la velocità secondo il tuo tempo». Ascoltando le sue parole, Dietrich guardò la folla danzante mentre lui continuava. «Naturalmente, se ora guardiamo i ballerini e quindi rimaniamo con loro nel loro dominio, accade il contrario. Dobbiamo muoverci più velocemente rispetto al loro tempo perché i ballerini si muovono al loro ritmo dedicato». Dietrich cominciava a comprendere e chiese «E la luce è in grado di seguire tutto in un batter d'occhio?». Albert sorrise, fece una pausa, poi parlò lentamente. «Non sempre, solo quando viene riflessa da uno specchio in modo da potersi incontrare di nuovo o in modo più sottile, quando viene curvata dalla gravità per creare l'occasione di un secondo incontro». Svuotò la pipa nel posacenere sul tavolo e mise una nuova presa di tabacco. Mentre accendeva un fiammifero e lo teneva accanto al fornello, guardava Dietrich negli occhi. Il suo viso era leggermente corrucciato mentre sospingeva il fuoco nel tabacco e delle piccole nuvole di fumo emergevano dalle labbra. «Non è stata una buona scelta chiamarla «teoria della relatività», disse sorridendo, ma tenuto conto dello spirito scientifico dell'epoca era comprensibile. Dietrich credeva di sapere, almeno in parte, cosa intendesse, ma era ansioso di scoprire se avesse davvero compreso. Così chiese «E a causa del principio della costanza della velocità della luce in ogni sistema di riferimento che teoria della relatività non era un buon nome?» «Esattamente», rispose, «ma c'è molto di più di quello che io e altri avevamo capito a quel tempo». Stimolato nella sua curiosità, Dietrich chiese «Che cos'è questo «molto di più»?» «La velocità della luce, sempre uguale in ogni sistema di riferimento, è una conseguenza di natura molto indiretta, che assieme al focus sulla relatività, ha semplicemente oscurato la comprensione di ciò che realmente accade», disse guardandolo mentre muoveva le sopracciglia. Dietrich si appoggiò alla sedia, incuriosito dall'espressione del suo volto. Poi Albert continuò «Alcune delle cose che ti spiegherò sono state in parte osservate, qua e là, nelle diverse analisi, in modo frammentario, ma non sono state digerite, sicuramente non sono state pienamente comprese o prese sul serio. Permettimi di citare una di queste cose, che probabilmente conosci. Si sedette dritto sulla sedia e con la sua pipa fece una nuvola di fumo. Ogni volta che un oggetto si muove, il valore della sua quadri velocità è uguale alla velocità della luce. È qui che la velocità della luce entra in scena ed è qui che dobbiamo interpretarne il significato». Dietrich era stupito da questo spostamento di focus nel parlare della velocità della luce. In tutte le analisi della teoria della relatività che aveva letto e su cui aveva riflettuto, la velocità della luce entrava in scena come velocità massima possibile, come costante indipendente dal sistema di riferimento in cui viene misurata. E naturalmente sapeva che se si calcolava la magnitudo della quadri velocità di un corpo arbitrario, e qui dovete fare una pausa per scavare nella sua memoria, si otteneva che era uguale alla velocità della luce. Ma non ricordava di avere mai letto una spiegazione di questa sorprendente uguaglianza. Mentre stava ancora riflettendo, Dietrich riuscì semplicemente a dire «Capisco». Albert lo guardò, visibilmente divertito del suo stupore. «Che cosa significa, chiese Dietrich, che ogni oggetto si muove con una quadri velocità che ha la grandezza della velocità della luce? Significa esattamente quello che ha appena detto?» sussurrò Albert con un sorriso misterioso. Dietrich rimase in silenzio. Albert teneva la sua pipa senza stringerla nella bocca e delle piccole nuvole di fumo riempivano lo spazio tra i loro volti. «Vuoi dire che tutte le cose materiali si muovono alla velocità della luce?» chiese senza rendersi conto che stava semplicemente ripetendo la sua domanda. «Esattamente», rispose Albert. «Muoversi alla velocità della luce?» chiese Dietrich cercando di afferrare il significato delle sue stesse parole. «Significa muoversi nel continuum spazio temporale quadridimensionale?» «Non esiste un continuum spazio temporale a quattro dimensioni», rispose Albert con voce ferma. E dopo una pausa continuò. «Le cose appaiono molto diverse da come le immaginavamo negli anni successivi alla nascita della teoria della relatività», disse pensieroso. «Puoi spiegarmi?» chiese Dietrich avvertendo che la sua attenzione si acquiva a un livello che non aveva mai sperimentato. Dopo aver preso una profonda boccata di fumo, Albert continuò dicendo. «Vedi, so che in realtà c'è molta confusione e che molti sono arrivati a una visione che hanno chiamato l'universo blocco, in cui si crede che esista solo il continuum spazio temporale a quattro dimensioni e si immagina che il passaggio del tempo sia un'illusione». «Non è una buona strada da percorrere, non credi?» aggiunse, facendo un cenno con la testa. Dietrich percepì che non si aspettava una risposta, quindi rimase in ascolto. «Dobbiamo dipanare la confusione che ha portato a questa visione, se vogliamo poter vedere cosa realmente accade. E vedremo allora aprirsi una situazione completamente diversa, molto più compatibile con la nostra intuizione di ciò che crediamo sia la realtà, ma allo stesso tempo contenente nuovi elementi di profonda stranezza». «Mi incuriosisci molto», disse Dietrich, mentre la sua mente navigava a velocità sostenuta tra i contenuti della sua memoria sulla visione dell'universo blocco. Appoggiandosi all'indietro sulla sedia, Albert disse «Guarda!» per poi chinarsi ulteriormente all'indietro per raggiungere i menù che erano raccolti su un tavolino di servizio. Afferò uno dei libretti e lo aprì alla prima pagina dove c'era scritto «Hort d'œuvre» e continuò. «Entrambi stiamo guardando la lista degli antipasti offerti in questo ristorante», disse mentre muoveva il dito sulla pagina. «Ma questo non significa che qualunque sia la parte di realtà generata dal nostro guardare che questa sia anche contenuta nel libretto». La visione dell'universo blocco, che consiste nel guardare la realtà come immutabilmente descritta all'interno del continuo spazio temporale, contiene questo errore, quello di credere che, se leggiamo la lista degli antipasti, siamo noi stessi parte della lista». Fece una pausa e rimosse di nuovo il dito sulle righe stampate. Se esaminiamo la lista degli antipasti, ci muoviamo sulla pagina stampata, ma naturalmente la pagina stampata esiste indipendentemente dalle nostre dita. Ci muoviamo su di essa lungo una dimensione, solitamente dall'alto verso il basso, ma alcuni potrebbero farlo dal basso verso l'alto o addirittura saltando in modo caotico attraverso la pagina, da una riga all'altra, ma sarà sempre una sola dimensione che può essere messa in relazione con il cambiamento del tempo. Non si tratta però di una dimensione temporale, poiché si riferisce a un movimento sulla pagina del menu. In modo simile, noi, incluse tutte le entità materiali del nostro universo, ci muoviamo nelle profondità del reale alla velocità della luce. Ci muoviamo in una dimensione che è una linea nella realtà profonda, ben descritta dal cambiamento del tempo. Intendi dire che noi e il resto del mondo materiale non facciamo parte dello spazio-tempo quadridimensionale, ma ci muoviamo invece attraverso di esso, chiese Dieterich. Un sorriso misterioso era ora apparso sul volto di Albert. Le cose sono ancora diverse, disse, e forse riuscirai a comprendere meglio di quanto credi. Fece una pausa, poi continuò. Sai perché ho aspettato tutto il pomeriggio in questa sala da ballo per incontrarti? Chiese. Mi piace stare qui a guardare le danze, ma non era questo il motivo per cui ho trascorso così tanto tempo qui. Io ero venuto espressamente per incontrarti. Dieterich non rispose, ma il cambio di argomento e le sue parole gli fecero venire in mente la nozione di non-spazialità. È una nozione che aveva introdotto con il suo gruppo negli anni Ottanta del secolo scorso, per spiegare alcuni aspetti della teoria quantistica. Albert si fermò a guardarlo a lungo, mentre anche lui rimase in silenzio. In effetti, disse poi come se avesse intuito i suoi pensieri, la realtà profonda non è all'interno dello spazio-tempo. Il tempo e lo spazio sono costruzioni la cui origine è legata alla formazione della materia. Dovete riflettere un po' su queste parole. Poi chiese, ma non hai appena detto che il flusso del tempo è reale che è legato a noi stessi e alle entità materiali attorno a noi che si muovono nella realtà profonda alla velocità della luce? È reale, rispose Albert, perché è posto in esistenza dai nostri corpi che sono fatti di materia e da tutte le entità materiali macroscopiche che accompagnano i nostri corpi in questo universo, in un volo che avviene alla velocità della luce. È reale, ma fa parte della specificità dei nostri corpi e delle entità materiali che li accompagnano. Quindi quello che siamo abituati a chiamare l'universo è solo un punto di osservazione rispetto alla realtà profonda. Albert marcò una pausa guardando Diederich con uno sguardo penetrante. Ecco, termina qui il frammento di sogno di cui volevo raccontarvi. Grazie dell'ascolto. Grazie. 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 Grazie.